Mister Marco Sanginario, avete fatto un primo test amichevole a Boiano, formazione di serie C, è stato comunque importante a dire il risultato per creare la giusta amalgama del gruppo. Esatto, ringraziamo innanzitutto per l'ospitalità alla società del Boiano ed è stata un amichevole che ci ha consentito di scendere in campo per la prima volta tutti insieme, abbiamo fatto un'ampia rotazione, ci sono stati segnali sicuramente positivi, il segnale maggiormente positivo è venuto dal gruppo perché ci si ingoraggia, le sensazioni sono veramente tutte positive, al di là del risultato ovviamente positivo per noi, ma devo fare i complimenti anche al Boiano perché è stato messo bene in campo, è bello quadrato, quindi va a farti i complimenti anche al Boiano sicuramente. Dando uno sguardo a quelle che sono le amichevoli in calendario, spicca sicuramente il quadrangolare del 3 ottobre con il sapone e anche il netto che tombe i sì al Palau. Assolutamente sì, un quadrangolare per Palatifini dove ospiteremo la squadra del mister e amico Fausto Scarpitti, l'acqua e sapone che insomma proverà a prendere il titolo italiano quest'anno, quindi grande futsal al Palau Unimol, ma non solo grande futsal, ci sarà anche un clinic alle ore 10 al Palau Unimol che vedrà in scena sia il mister Scarpitti, sia il coach Andrea Capobbianco, Davide Ceppi e modererà il clinic, il professor Germano Guerra, delegato del rettore per le attività sportive, nonché medico dello sport. L'oggetto del clinic sarà similitudine e differenze nelle metodologie di allenamento tra calcio a 5, quindi tra futsal e basket. Un appuntamento che vedrà coinvolto anche i ragazzi, gli studenti di scienze motorie, quindi un momento, diciamo una giornata di sport sia in campo sia sui banchi dell'università. Per quanto riguarda il campionato, si parte per fare sicuramente una bella stagione, l'ultimo ha creato Pasqua, lo garantirà più esperienza sicuramente al gruppo, dove si potrà arrivare? Beh, obiettivi non li poniamo, l'obiettivo principe che si desume dal budget messo a disposizione della società per formare questo organico 2020-2021 è sicuramente la salvezza. Raggiunta la salvezza, ovviamente cercheremo, come lo scorso anno, di levarci delle grosse soddisfazioni. L'anno scorso noi non ci siamo qualificati per le finali dei Coppa Italia, siamo stati premiati come primi nella Coppa Disciplina dei Gironi, i secondi in Italia tra tutti i gironi, che è una cosa che ci andiamo particolarmente orgogliosi e ci siamo levati di grosse soddisfazioni vingendo a Melilli e fermando in casa il Real Roget, che poi sono state le squadre che hanno terminato il campionato a 4-5 giornate alla fine, in testa alla classifica. Proveremo anche quest'anno a dire la nostra contro tutte le squadre, sappiamo che sarà difficile, ci proveremo con tutte le nostre forze e speriamo di provarci davanti al nostro pubblico.